Edizione 2018 del premio Exodus, la giornata intensa è cominciata dal mattino dalla Mediateca regionale di Via Firenze, un momento per incontrare le scuole, per parlare di libri, ma soprattutto per parlare di storie. La Spezia non dimentica la sua storia, non dimentica la Porta di Sion, non dimentica Fede Felice e soprattutto non dimentica di essere stata una speranza. Siamo in Mediateca perché è stato, credo, importante tornare a ripetere questo docufilm, un docufilm che racconta la vicenda di Exodus alla Spezia con delle importanti testimonianze delle persone che le hanno vissute. È una testimonianza, una narrazione che meglio di ogni altra parola può raccontare ai ragazzi che sono presenti in sala quanto Spezia sia stata importante per quegli uomini, quanto Spezia abbia dimostrato solidarietà alla sofferenza e al dramma. Exodus racconta una storia ed è stata scoperta casualmente, diciamo, questa storia ed è sempre bene ricordarla. Sì, diciamo che è stato per puro caso che io ho scoperto che c'era una celebrazione a Tel Aviv a New York che ricordava la partenza della nave Fede Felice e da lì è nato tutto un discorso con l'allora sindaco Rosaia e quindi si è un po' ritrovata una parte di storia spezzina che era stata dimenticata. Probabilmente per problematiche di carattere politico non era stata trasmessa. Da lì è nata una enorme ricerca che ha interessato storici, scrittori, giornalisti da cui discende appunto il libro di Cavanna. E di questo genere di storie ne ha parlato Alberto Cavanna nel suo libro Ma forse è un dio che parteciperà al premio Campiello 2018. A me ha sempre affascinato la grande storia quando si incrocia con la piccola storia di tutti noi. Di tutti noi che, io sto parlando dei miei nonni che a quel tempo vissero la Spezia anche se la Spezia non erano, che non riuscivano a capire bene quello che succedeva perché le necessità erano altre. Perché questa è la grande caratteristica che hanno questi avvenimenti. Chi c'è dentro non li capisce quasi mai. Ed è per questo che ho voluto narrare questa storia umana che poi è necessariamente di riscatto. Perché tutta questa gente, più ancora che ricordare, vorreva riscattare tante cose. Forse anche questa è una delle ragioni per cui non si parlava di questa storia. Così come i miei nonni non mi raccontarono tante cose le seppi dopo che io ero diventato maggiorenne.